C'è anche la parlamentare molisana di Italia Viva Giussi, occhio nero, tra le sei persone indagate nell'ambito dell'inchiesta Passepartout della DDA di Palermo sugli intrecci tra la famiglia mafiosa di Sciacca e una parte della politica. Per le sei persone i pubblici ministeri Francesca Dessy e Geri Ferrara hanno chiesto il rinvio a giudizio. L'udienza preliminare davanti al gruppo di Palermo, Fabio Pilato, è stata fissata per il prossimo 9 settembre. Fra i principali imputati, Antonello Nicosia, 48 anni di agrigento, assistente parlamentare della deputata molisana Occhio Nero, accusato di associazione mafiosa. Secondo gli inquirenti, Nicosia sarebbe stato il braccio destro del capo mafia a Cursio di Mino, 61 anni, tornato in libertà dopo due condanne per mafia. I due avrebbero gestito affari e progettato perfino un omicidio. A Nicosia viene contestato, tra le altre accuse, anche quella di aver utilizzato la sua funzione di collaboratore parlamentare per entrare liberamente in alcune carceri siciliane, parlare con i boss e portare all'esterno i messaggi che servivano alla gestione della famiglia mafiosa. L'Occhio Nero rischia di finire a processo con l'accusa di falso, con l'aggravante di aver agevolato l'associazione mafiosa. Secondo le indagini, la parlamentare avrebbe dichiarato falsamente in diverse attestazioni indirizzate alle carceri di Agrigento, Sciacca e Palermo che nel dicembre del 2018 Nicosia prestava una collaborazione professionale diretta, stabile e continuativa. La diretta interessata, già quando scoppiò il caso, si dichiarò estranea alla vicenda e anche oggi continua a ribadire la sua assoluta innocenza. Intanto il suo collaboratore Nicosia e Di Mino si trovano in carcere nello scorso 4 novembre quando scattò l'operazione Paspartout.